buongiorno ragazze buongiorno a tutte e a tutti come state spero bene un nuovo video vlog un parco incliccio e niente mi vedete vicino alla finestra perché si vede meglio il video e nulla dunque sono qua a fare questo video che c'è per voi e a parlare un po di tutto allora premetto che oggi cos'è oggi eh ah per oggi è domenica non dico da un poco più e niente dunque questo video voleva essere solo un momento piccolo se riesco non è detto vi do il saluto perché mi piace molto parlare con voi allora questo video appunto aspetta ne metto un po di qua perché non vedo cosa sto facendo ok allora questo video appunto è un video per parlare un po con voi ma anche perché mi piace molto fare i video su youtube quindi dopo in avanti vedrete non questa fate conto che non so che non vi interessa cosa sto registrando ma non è più la telecamera frontale ma quella posteriore perché noto che si vede di più anche e niente spero che questo video mi piaccia se così mi anticipo di mettere anzi anticipatemi il like innanzitutto un bel like eccolo qua nulla se vi piace questo canale youtube iscrivetevi qua sotto nel tastino su se destra sinistra attivate la campanella qualora voi decidete di rimanere attivi sul mio canale youtube ok e niente che dire finalmente sto tornando con altri video e questi video appunto vogliono essere figli di intrattenimento più che altro scusate un po ma un fastidio un occhio che non viene bene non so perché ho sto ben detto fastidio agli occhi ebbene sì allora vi sto alzando un po perché mi sta facendo il traccio quindi è bene che mi tengo un po su allora io non vedo la mozza ok signora mi vedo sì perché sapendo che io sto registrando la fotocamera posteriore non quella frontale non vedo cosa faccio quindi mi sono messa di fronte allo specchio in modo tale che voi vediate anzi in modo tale che io vedo cosa faccio anzi voi mi vedete appena pubblicano il video perché sono più a fuoco almeno spero di essere a fuoco non solo io sono a fuoco però spero di essere a fuoco nel senso che mi vedete più nitida più pulito il video almeno spero che sia così e se fosse così fatemelo sapere qua sotto i commenti se si vede bene il video allora lo sto caricando lo sto pubblicando oggi sto video e se non lo vedrete oggi lo vedrete un altro momento ok quindi niente grazie questo era tutto e che ne so vi dico una buona domenica e buon pranzo dipende da quali entrate dalle vostre passeggiate matutine domenicali e noi ci si vede appunto a un prossimo video ok non lo posso fare troppo lungo perché sennò non so se me lo carica youtube ok perché ho capito che a vostri miei video vi piacciono di più se sono brevi che se sono troppo lunghi ok niente a presto un bacio e che dire ci vediamo alla prossima ciao like commento e iscrizione ciao